Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La Presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha illustrato in prima commissione il rapporto sugli affari europei della Regione Umbria. Il rapporto sugli affari europei è stato per la prima volta illustrato in prima commissione dalla Presidente Catiuscia Marini tra Fondo Sociale Europeo, Programma di Sviluppo Rurale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Garanzia Giovani, risorse per 1 miliardo e 585 milioni di euro destinate all'Umbria per il periodo 2014-2020 con 56 milioni addizionali per il sostegno ai territori colpiti dal sisma e risorse aggiuntive per 300 milioni di euro come contributo di solidarietà dalle altre regioni italiane e dal Ministero dell'Agricoltura. Ma la svolta sugli investimenti è la caduta dell'obbligo di cofinanziamento regionale per quanto attiene al piano di sviluppo rurale. I consiglieri della commissione presieduta da Andrea Smacchi hanno rivolto domande alla Presidente sulla quantità di risorse messa a disposizione dall'Unione Europea, effettivamente utilizzata dalla Regione Umbria. Catiuscia Marini ha risposto che è stata utilizzata l'intera programmazione, con oltre 140 milioni già distribuiti. L'atto andrà in aula a fine mese, in occasione della specifica seduta dedicata alla Sessione Europea. Illustrato il rendiconto finanziario 2016 dell'Assemblea Legislativa, entrate complessive per 23 milioni 725 mila euro, si conferma la tendenza alla diminuzione della spesa. Nella prima commissione consigliare presieduta da Andrea Smacchi, la Presidente Donatella Porzi ha illustrato il rendiconto finanziario 2016 dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, che ammonta a 23 milioni 725 mila euro. La Presidente Porzi, esponendo il documento ai commissari, ha detto che efficacia, efficienza ed economicità si devono ben conciliare con le attività inerenti la funzione legislativa di indirizzo e di controllo dell'Assemblea Legislativa, l'informazione e comunicazione, l'organizzazione della struttura e degli uffici e quella di promozione della cultura. Risorse umane, strumentali e finanziarie devono essere ben armonizzate e finalizzate al raggiungimento dei risultati attesi. Il rendiconto conferma la tendenza alla diminuzione e razionalizzazione della spesa dell'ente. L'andamento percentuale della spesa dell'Assemblea Legislativa nel periodo 2012-2016 fa registrare una riduzione delle uscite per l'indennità dei consiglieri, meno 39%, dei contributi ai gruppi consigliari, meno 30%, per il funzionamento, meno 43% e personale, meno 13%, e l'aumento delle uscite per il ripiano degli assegni vitalizi, più 33%. La seconda commissione dell'Assemblea Legislativa ha ascoltato i rappresentanti dei sindacati coinvolti nella vertenza della ex Novelli. L'esito dell'incontro in questo servizio di Marco Paganini. L'organismo consigliare presieduto da Rosbrega ha ascoltato, durante un'audizione che si è svolta a Palazzo Cesaroni, i rappresentanti dei sindacati Filt CGL, CGL Fly, Fai, CISL, Willa Will, in merito alle problematiche della ex Novelli. Durante l'incontro, richiesto dagli stessi sindacati, è emerso che il rifiuto della proprietà a confrontarsi per trovare una soluzione alle tante criticità rappresenta forse il problema maggiore. Va sollecitata una maggiore organizzazione aziendale. I lavoratori meritavano e meritano una diversa attenzione, garanzie e maggiore dignità. Dagli interventi di Dario Bruschi, Stefano Tedeschi, Paolo Sciaboletta, Alessandro Rampiconi, Simone Dezzi, Loreto Fioretti e Marco Bonfiglio, è emerso una situazione complicata e complessa, che sfocia anche nel mancato versamento dei contributi e del TFR verso i fondi pensione, oltre al versamento per gli operai agricoli della Cassa, che garantisce loro copertura in caso di malattia. È stato poi sottolineato che i lavoratori devono ancora avere lo stipendio di maggio e non è dato conoscere con precisione quando questo verrà liquidato. Ma preoccupazione arriva anche dalla vicenda giudiziaria che si sta sviluppando, con i legali della famiglia Novelli che hanno chiesto al giudice di esprimersi sulla conferma o meno rispetto all'atto di vendita. Istituzione di commissioni di inchiesta e modalità di discussione del bilancio e del documento annuale di programmazione. La commissione statuto chiede adeguamenti al regolamento interno dell'Assemblea legislativa. La commissione per le riforme statutarie e regolamentari, su proposta del presidente Silvano Rometti, ha dato mandato agli uffici di Palazzo Cesaroni di formulare una proposta tecnica che adegui il regolamento a quanto previsto dallo statuto della Regione, chiarendo le procedure in ordine all'istituzione delle commissioni speciali di inchiesta. La questione è in questi giorni oggetto di confronto in seno agli organi di Palazzo Cesaroni, dopo la presentazione da parte di tutti gli otto rappresentanti dei gruppi di opposizione, della richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta avente ad oggetto la gestione delle imprese della mobilità pubblica partecipate dalla Regione Umbria e individuazione delle cause dell'attuale crisi finanziaria di Umbria Mobilità. In merito alla costituzione delle commissioni di inchiesta, lo statuto regionale stabilisce all'articolo 54 che è istituita una commissione allorché un terzo dei consiglieri ne presenti richiesta motivata all'ufficio di Presidenza. Il regolamento interno su questo tema indica che la proposta di nomina di commissione di inchiesta è deliberata dall'Assemblea nella seduta immediatamente successiva alla rituale formalizzazione della richiesta. La questione che dovrà quindi chiarire la commissione per le riforme statutari e regolamentari sulla base della proposta tecnica che verrà dagli uffici sarà di specificare la natura e i contenuti della deliberazione che sarà messa in votazione in aula posto che per gli effetti della norma statutaria la commissione è comunque istituita perché otto consiglieri su 21 ne hanno fatta formale richiesta. La terza commissione consigliare ha approvato la relazione sulla somministrazione in Umbria dei farmaci cannabinoidi a scopo terapeutico. Ci sono ancora pochi dati per affermare che la cannabis abbia un uso medico importante rispetto ad altri farmaci è quanto è emerso nell'audizione della terza commissione che ha approvato la relazione sulla clausola valutativa della legge 7 del 2014 disposizioni per la somministrazione a uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi confluita nel testo unico in materia di sanità. Hanno preso parte all'audizione medici di oncologia, anestesia e terapia del dolore oltre a rappresentanti di Federpharma e due esponenti del partito radicale secondo i quali la regione dovrebbe fare maggiori sforzi per superare lo stato di impasse in cui si trova l'applicazione di questa legge e fare una adeguata campagna informativa sul tema. I farmaci cannabinoidi, hanno detto i medici presenti, danno buoni risultati in alcuni casi come riscontrato su AIDS o demenza ma non nel campo oncologico dove l'unico farmaco che ha dimostrato chiari benefici è il cortisone. Con qualche eccezione si sono avuti buoni effetti con la cannabis su due pazienti affetti da bioblastoma, un tumore cerebrale molto aggressivo. L'esigua casistica della somministrazione di farmaci cannabinoidi non consente considerazioni statistiche particolarmente apprezzabili. È stato altresì riconosciuto da tutti gli intervenuti che l'utilizzo della cannabis rappresenta indubbiamente un'arma in più per la cura di alcune patologie e si deve dunque insistere anche su questa strada così come promuovere la formazione dei medici a valutare il problema del dolore dei pazienti e trattarlo con tutti i mezzi disponibili. Nella sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria Palazzo Cesaroni la Presidente Donatella Porzi ha salutato gli studenti dei licei scientifici Alessi e Galilei che hanno terminato il programma Alternanza Scuola Lavoro. Con i saluti della Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria Donatella Porzi gli studenti del liceo scientifico hanno ultimato il loro percorso di Alternanza Scuola Lavoro a Palazzo Cesaroni della durata di 10 giorni per un totale di 80 ore. Per gli studenti l'esperienza dell'Alternanza Scuola Lavoro è fondamentale ha detto la Presidente Porzi e lo è anche per i liceali il cui percorso di studi non è caratterizzato da una specificità tecnica ma una preparazione interdisciplinare molto forte. Il consiglio che posso darvi, ha detto la Presidente, è quello di vivere a pieno anche il periodo che trascorrerete nella sede dell'Assemblea Legislativa impiegandolo nel conoscere le istituzioni perché questo sarà l'unico modo per voi per migliorarle e portare il vostro contributo. Hanno preso parte al progetto di Alternanza 20 studenti delle classi quarte, 19 del liceo Alessi e una studentessa del liceo Galilei di Perugia. I ragazzi sono stati suddivisi in piccoli gruppi assegnati a diversi settori documentale, valutazione, sicor, organizzazione, biblioteca, commissioni, legislazione, corecom, economato e ufficio stampa. A tutti è stato spiegato qual è il ruolo e quali sono le funzioni dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Il 23 giugno del 1977 veniva inaugurata la nuova sede del Consiglio regionale dell'Umbria, Palazzo Cesaroni di Perugia. Il 23 giugno del 1977 Fabio Fiorelli e Pietro Conti, primi presidenti del Consiglio della Giunta della Giovane Regione Umbria, con i consiglieri e gli assessori alla presenza delle principali istituzioni regionali, nella Sala Brugnoli inauguravano ufficialmente Palazzo Cesaroni, nuova sede del Consiglio regionale dell'Umbria. Dopo un accurato lavoro di ristrutturazione, il prestigioso edificio, allora in uno stato di notevole degrado, veniva restituito all'antica unità, funzionalità e bellezza. In occasione del quarantesimo anniversario, la presidente Donatella Porzi ha voluto ricordare quell'ormai lontano evento. Da quattro decenni, ha detto la presidente, Palazzo Cesaroni è il punto di riferimento, la casa di tutti i cittadini umbri, i quali, attraverso i rappresentanti da loro eletti, concorrono a discutere, e a decidere democraticamente il proprio futuro sociale, economico e culturale. L'iter per l'individuazione e realizzazione del neonato Consiglio regionale, ora Assemblea legislativa dell'Umbria, fu avviato all'inizio della prima legislatura, nel 1972, su indicazione di un'apposita commissione. Il Consiglio scelse Palazzo Cesaroni, allora di proprietà dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, e si concluse nel 1976 con la stipula del contratto. I lavori di ristrutturazione del palazzo, iniziati già a partire dal 1973, riguardarono la stabilizzazione e consolidamento delle strutture, l'adattamento funzionale degli spazi alle esigenze istituzionali, il restauro delle opere murarie e pittoriche. I relativi progetti furono firmati dagli architetti D'Aria Ripa di Meane, Giuliano Caravaggi, e dall'ingegnere Giuseppe Tosti. L'edificio è stato poi acquistato dalla Regione Umbria nel 1999. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo, TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda in tutte le emittenti televisive della Regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a tutti.